Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A11 in direzione Firenze per traffico intenso, code tra Firenze Nord e Firenze Peritola e tra Prato Ovest e il Vivio Perla 1. Sulla Fibili rallentamenti per lavori tra Firenze Scandicci e Lastra a Signa in direzione Mare. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori, code attratti in entrambe le direzioni tra San Casciano e Imprunita Greve Inchianti. Sulla A12 è chiuso lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata in direzione Livorno in uscita in direzione Sud. Fino al 9 marzo chiusa la funnicolare di Certaldo per lavori, attivo servizio di trasporto alternativo. La viabilità cittadina a Firenze è chiusa per scavo urgente via della nave di Brozzi. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!